Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno Simone, grazie. E allora siamo pronti, siamo pronti per cominciare, iniziamo con una bella notizia, ieri tutti in festa perché l'Argentina ha vinto i mondiali e noi italiani chiaramente siamo stati felici. Beh, siamo parenti gli argentini. In primis che non abbia vinto la Francia, primo. No, non diciamo così, è pure Briss. Hai ragione, però dopo possiamo commentare con lui, però è chiaro che noi italiani facevamo il tifo per l'Argentina. Non tutti gli italiani però, però diciamo sono nostri cugini, cugini dall'altra parte del mondo. Gli argentini dicono, eh mio nonno è italiano, quindi abbiamo questo legame davvero profondo, quindi siamo contenti così, messi chiaramente il solito fuori classe. Eh sì, mancava solo lui per essere paragonato a Maradona, adesso anche il mondiale può finire la sua carriera felice. E allora cominciamo però, perché ci è venuto a trovare un personaggio, un ospite, anzi in realtà due. Vabbè, facciamo questa piccola anticipazione. È un personaggio che ha un'arte molto particolare, perché parla con lo stomaco. Sì, sì. Ventriloquo, è attore, speaker radiofonico, cantante, insomma tantissime frecce nella sua... DJ. DJ anche, le diamo il buongiorno a Simone Fanelli. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ma soprattutto diamo il buongiorno a Johnny. Johnny? Eh? Saluta? Ah sì, devo salutare? Sì, saluta. E allora, buongiorno a tutti. Buongiorno Johnny, che hai degli occhi azzurri bellissimi. Come il tuo? Anche i tuoi sono bellissimi. Grazie. Grazie. Come stai Johnny? Eh, insomma, molto male. Perché male? Eh, non abbiamo dormito stanotte. Vabbè, ok. Però non si direbbe che è una brutta cera, io ti trovo in ottima forma Johnny, grazie per essere qui. Oh, si è emozionato. Grazie. Simone, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere qui. Adesso poi ci racconti la storia di Johnny. Ecco, è partito tutto da quando avevi otto anni. Esatto. I tuoi genitori ti hanno regalato dei giochi di magia? Una scatola dei giochi di prestigio. Perché io ho iniziato facendo il prestigiatore all'età di otto anni, nove anni per Natale, quindi era questo periodo. Mi hanno regalato una scatola dei giochi di prestigio. E così ho iniziato a fare il piccolo mago davanti ai parenti, ai familiari. Che costringevi tutti a vedere i tuoi spettacoli. Esatto, esattamente. Poi successivamente ho iniziato a frequentare delle accademie di prestigio. Si dice prestidigitazione. E sono tipo un'accademia tipo Hogwarts. Ho frequentato queste scuole, quindi mi insegnavano a fare i trucchi di magia, illusionismo, eccetera. Però un giorno venne un ventriloquo. Eh sì, un ventriloquo. Eh, ok. Venne un ventriloquo e lì ho detto, wow, devo fare il ventriloquo. Che poi fare il ventriloquo posso dire che è l'illusione, è l'illusionista della voce. È proprio un'illusione. Esatto. Quindi rimaniamo sempre in tema giochi di prestigio. È tutto un qualcosa di magico. Perché poi il pupazzo si anima, il personaggio diventa vivo, ha un'anima propria. Eh sì, così, dico così. Quindi tu hai avuto questa illuminazione quel giorno. Esattamente. Quanti anni avevi? Avevo 15 anni. 15 anni. Tu hai detto io voglio diventare ventriloquo. Ventriloquo. E c'è una scuola per diventare ventriloquo? Attualmente non c'è una scuola in Italia. Ma la mia è stata una grande volontà, quella di rendere vivo un pupazzo. Tutti abbiamo avuto nell'adolescenza, nell'infanzia, dei pupazzi. Cioè, con cui parlavamo. Esatto. Ho preso un lupo che avevo in camera mia e con il tempo l'ho trasformato in un pupazzo per ventriloqui. Quindi ho fatto la bocca, l'inserimento per la mano, eccetera. E così è iniziato il mio percorso nel mondo della ventriloquia. Quindi posso dire qui che, sfatiamo un mito. Eh. Ventriloqui non si nasce. Si diventa. Si diventa, esattamente. Anche se il termine latino, se lo andiamo ad analizzare, venterloqui significa dialogare con il diaframma. Perché poi quest'arte ha un'origine antichissima. Perché arriviamo fino ai tempi di Socrate, dove c'era l'oracolo di Delfi, dove in Grecia tutti andavano davanti a questo oracolo e chiedevano chi è il più sapiente della Grecia e rispondeva all'oracolo. Ma in verità era una persona che era dietro all'oracolo e faceva la voce. Quindi era il primo ventrilogo. Ancora non si sa l'origine sconosciuta di questa persona, ma era una persona che faceva la voce dell'oracolo, di questa statua enorme. Quindi nacque tutto lì. Poi si svilupparono delle accademie per l'interpretazione dei suoni. Ancora non c'era il termine ventriloquismo. Ma nel corso degli anni è diventata veramente una disciplina artistica. È un qualcosa che poi, come dicevo, è collegata molto allo studio del canto, yoga, la respirazione. Perché di base è quello. Esattamente. Di base c'è la respirazione. C'è l'utilizzo del diaframma. Però è sbagliato dire parlare con la pancia, con lo stomaco. Io direi si utilizza il diaframma, è una tecnica molto particolare che viene tramandata. Però è molto difficile, è raro. Da dove si parte per diventare ventriloquismo? Si parte dallo studio della respirazione. Sì. Quindi l'utilizzo del diaframma, la respirazione diaframmatica, lo studio della musica perché è fondamentale. Sì. Esattamente. Lo studio della musica, sì, è molto fondamentale. Perché io poi, anche quando sono in scena, parlo con il pupazzo, canto con il pupazzo. Quindi ci aiuta tantissimo lo studio della musica. E poi... E canta anche il pupazzo. Canta anche il pupazzo, esattamente. Vuoi cantare, Johnny? Sì. E cosa posso cantare? A prima mattina non te lo chiediamo, Johnny. È meglio che non cantiamo? No, dai, ti prego. E quella è la tua che canti sotto la doccia, Johnny. Cerco l'estate tutto l'anno, E poi all'incroviso, eccola qua. Azzurro, il po' che rigge è troppo azzurro, è lungo, per me. Bravissimo. Sei un tradizionalista, Johnny. Azzurro come i tuoi occhi, immagino. Lui si emoziona, Johnny. Sì, mi sto sciogliendo. E senti, Johnny lo porti in giro con te, sempre? In giro, sì, sempre. Però non è il tuo unico amico. Assolutamente no. Johnny è il mio cavallo di battaglia. Esatto, però di battaglia, ma ho tantissimi altri personaggi. Ho realizzato qualche giorno fa un pupazzo DJ che porterò con me, essendo anche DJ speaker come stavamo dicendo, porterò con me in giro per le discoteche italiane, spero anche all'estero, e sarà con me nei miei DJ set. Che si chiama? Che si chiama, ancora non lo vorrei annunciare. Ah, non lo puoi annunciare, però... Lo dobbiamo ancora... Work in progress. Però hai detto che hai tipo 100 pupazzi. Esattamente, sì, ho quasi tutti gli animali. E poi ho anche il tenore, e ho altri personaggi. Beh, è una casa grande, evidentemente, perché 100 pupazzi. Ho una stanza dei pupazzi. Esattamente, sì. E ti capita di lavorare anche a un pubblico piccolo di bambini? Sì, sì, io fortunatamente sono partito dal pubblico proprio... Anche in strada, andavo in strada con il pupazzo a portare allegria ai bambini, e ultimamente ho lavorato anche sulle navi da crociera. Ah! Quindi, esattamente, sì. È stato qualcosa di straordinario quando ti puoi relazionare con un pubblico internazionale. Sì. Un pubblico che parla lingue completamente diverse. Cioè, ti capita durante lo show che hai tedeschi, spagnoli, inglesi, quindi è un qualcosa di straordinario. Che direbbe Johnny in spagnolo? In spagnolo cosa vuoi dire? In spagnolo? In spagnolo? Oh, yes! Oh, sì! Ma sei proprio poliglotta, Johnny! È molto poliglotta, Johnny! Johnny? Eh? Cosa gli vuoi dire? Che gnocca? No! Non lo dire qui davanti alle telecamere, dai! E qual è il prototipo di bellezza di Johnny? Su quali ragazzi sei, diciamo, più direzionato? Su quale ragazze sei più direzionato? Eh, ce ne stanno tante. Ah, ecco. Ti facciano tutte, insomma. Sì, l'importante è che siano gnocchi. Ah, ecco. Va bene. Allora, buona ricerca. Grazie. E invece dicevi anche che i tuoi pupazzi sono tutti fatti a mano. Esattamente, sono originali. Sì, come io, esatto, come te. Sono tutti originali e sono unici al mondo. Quindi sono originali, sono fatti tutti a mano. Veramente ci sono degli artigiani che costruiscono i pupazzi, proprio partono dal pelo, dalle gambe e dalla coda. Eh, ma si vede, la fattezza è davvero straordinaria. È originaria. Sì, sì, sì. Ma come scegli il tuo personaggio? Dici, voglio dar vita a un, che ne so, un cagnolino. Esatto. Come nasce? Allora, alcune volte penso alla figura estetica del personaggio. Altre volte al carattere. Quindi mi viene in mente un carattere e poi disegno la bozza del... La disegni tu. Esattamente, sì, del personaggio. È un artigiano di fiducia adesso che ti aiuta? Assolutamente, sì. Sì, 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 che mi aiuta e realizza tutti i miei personaggi. Ma questo artigiano, scusa, io sono curiosa. Fa questo di mestiere. Sì. Solo i pupazzi. Solo i puppets. E le marionette. Vengono chiamati puppets in termini tecnici. Per esempio, Johnny, per venire al mondo, Johnny, quanto tempo ci è voluto per mettere al mondo questa grana così bella? Non un giorno, dai. Un mesetto. Un mese? Un mese. Sì. E quanti anni hai, Johnny, scusa? Quanti ne ho? Non te lo ricordi? Ne ho dodici. Dodici? Sì. Voi portati divinamente, Johnny. Eh, lo so. Guarda che pelo folto che hai. Esatto. Complimenti. Bravo, Johnny. E smetti di muovere la coda. Lui quando si emoziona scodinsola come un cagnolino. Ah, sì? Quale coda? Quella cosa lì. Non è la coda. Va bene, dai, Johnny. Ma Johnny ha scritto la lettera a Babbo Natale. Eh, sì, ancora la devo scrivere. Ma guarda che tardi. Una fidanzata? Magari. Magari perché sei single. Mi piacerebbe molto. Allora speriamo che Babbo Natale ascolti la tua richiesta. Eh, sì, perché Johnny ti devi muovere. Assolutamente. Eh, lo so. E poi la lettera al Polo Nord non ci arriva, capito? Io la porto io. Ah, beh. Eh, beh, tu sei abituato alle temperature fredde, no? Esattamente. Eh, sì. Allora ci vai tu. Esatto. Porta anche le nostre. Eh, noi siamo stati bravi quest'anno. E come no? Simone, tanti interessi comunque. Assolutamente. Davvero un bravo artista. Grazie. Ci dicevi prima che stai studiando canto lirico. Canto lirico, sì, perché sembra una cosa molto particolare questa. La ventriloquia unisce tante arti e discipline. Sì. Poi abbiamo lo studio della respirazione, yoga, meditazioni, le arti marziali. Quindi è veramente... E tu pratichi un'arte marziale? Ancora no, ancora no. Però c'è tutto un mondo dietro all'arte della ventriloquia, la dissociazione, il ruolo te con il personaggio, in teatro, come muoverti. È veramente un'arte molto complessa che penso non si finisca mai di imparare perché è un qualcosa che unisce varie varie discipline. Ed è molto, molto bella. Poi hai tanti assi nella tua manica. Assolutamente. E questo per chi vuole fare poi spettacolo, indipendentemente dalla tua attività di ventriloquo, poi ogni arte secondo me ti servirà a un certo punto. Assolutamente sì. Quindi anche perché hai fatto anche tanti programmi televisivi, quindi insomma la tua nomea si sta spargendo piano piano. Che ti piacerebbe fare, Simone? Nella vita? Nella vita, sì. Da grande. Il mio sogno proprio lo dici tu. No, dighilo tu. Ok. Allora, il mio sogno nel cassetto... Però non me l'ha mai chiesto nessuno. Sono contento. In un programma televisivo, è molto bello. Il mio sogno nel cassetto è fare il conduttore televisivo. Ah, beh. Sì, esatto. Vuoi provare a... Conduttore televisivo. Di che tipo? Insieme a un tuo amico? Non proprio. No. Però ecco, è un bel sogno che spero che si realizzi. Un programma di che tipo ti piacerebbe? Sanremo. Ah, beh. Non i basso. Perché è proprio una cosa... Sì. Sì, ma lo sogno sin da quando ero bambino. Sì. A me lo studio televisivo, le luci, lo spettacolo, è una cosa che mi piace molto. Il teatro, sì, è una cosa che sono nato in teatro, ma la televisione affascina. Sì, è così. Ma invece la tua famiglia cosa pensa di questa tua passione? Sono molto contenti, anche se loro non hanno mai... non sono artisti, quindi non hanno mai intrapreso un percorso artistico. Sono contenti e... sì, sì, sono molto felici. Che hanno sempre sostenuto in questa scelta. Vabbè, alla fine ti hanno portato all'accademia, tipo a Word. Esatto, esatto, sì. E quindi, sì, loro hanno comunque capito questa tua passione, l'hanno sostenuta. Ecco, non era così scontato. Assolutamente. Perché a quell'età sono poi i genitori che ti danno una direzione. Esatto. Quindi grandissimo supporto da parte della tua famiglia, è una cosa fondamentale. Assolutamente, sì. La famiglia veramente è un qualcosa di importante. E in questo periodo natalizio stai lavorando tanto? Sì, sono reduce. Ecco, ieri sera ho terminato alle due circa, l'una, alle due in teatro. E ogni giorno ho circa uno spettacolo. È un evento. Tra un DJ set, un teatro e quindi passo dalla console allo spettacolo teatrale. Esatto, sì. La foto che abbiamo appena visto, quella prima, è un altro pupazzo questo? È sempre il figlio dei giorni? No, è il fratellino di Johnny. Sì, si chiama Willy. Si chiama Willy. Lui è Willy, esatto. È il fratellino più piccolino. E qui era il molto giovanissimo. Qui dove eri, sì. Lì è... Sì, qui avevo, ecco, erano circa 3-4 anni fa qui. Sì, sì, sì. Parliamo del 2019-2018. Ah, ecco. E dove eri in quella foto? Vari spettacoli. Qui avevo i capelli lunghi che poi ho deciso di tagliare e niente. E lui come si chiama? È lui e Robert. È un altro pappez, molto dispettoso. Sì. Anche lui? Esatto, anche lui. È veramente... Ecco, sono... Poi sono per me tutti dei figli, no? Quando li vedo mi emoziono perché sono dei figli che poi sembra, è assurdo questa cosa. Tante volte sono in camera mia a fare delle prove, mia mamma mi prende per pazzo perché dice ma stai parlando da solo? Invece dialogo con il pappez. E quindi questa è una cosa strabile. Anche fuori dal lavoro. Assolutamente, sì. Che vi raccontate? Beh, parliamo delle nostre giornate. Eh sì, e poi? Delle nostre giornate, quello che facciamo. Eh sì, anche con le ragazze con le quali esci, no, non lo dire. E poi dopo parliamo un po' di tutto. Mi confido con loro, quando nei momenti tristi, quando ho bisogno, ci sono loro. Che bello questo. Sì, è molto bello. Gianni, ma invece Simone, come va con le ragazze? Eh, è neanche io che non lo diciamo. Perché non lo vuoi dire? È neanche io di no. È una scalzone. Ah, addirittura. No, no, non dire queste cose. Eh sì, vabbè. Ma scusa, Gianni, e tu non gli dici niente? Eh, però perché mi prende in giro? Nei momenti del bisogno, chi c'era con te? Eh sì, c'eri tu. Eh, quando avevi un problema, qualsiasi, chi ti ha curato? Eh, c'eri tu. Eh, e allora? E allora sei tu che cortissica. No, vabbè, lasciamo perdere. Ma come? Scusa, ma quando ti è rimasta incastrata la coda, chi c'era da aiutarti, Gianni? Eh, c'era lui. Eh, appunto. Eh, allora, e quindi? E quindi portigliela. No, ma non si dice. Ma non si dice, Gianni. È brutto, eh. Lui è dispettoso. In realtà anche durante, con il pubblico, delle volte mi fa... Eh? Ma Gianni, invece tu con Robert vai d'accordo? Non tanto. E perché? Eh, perché lui vuole predominare, lui è un carattere molto forte. Ah, è una prima donna. Eh, sì? È vero, Gianni? Sì, ti piace essere protagonista? Sì, molto. Eh, ma si vede, eh. Ah, e quindi Robert, anche lui è un po' protagonista. È certo. Ah, e non ti piace, non ti sa se non parte. Ma sono protagonista? No. Non ti piace? No. Ok. Simone, che Natale sarà per te questo di lavoro? Sarà un Natale pieno di regali. Eh? Perché oltre al Puppets DJ... Ne arriva un altro. E fammelo dire a me. Ne arriverà un altro. Ah, proprio delivery? Esatto. Su giorno di Natale? Sotto l'albero di Natale. Che bello. La porta a Babbo Natale. Sì, ne avrò un altro. Questo è una nuova aggiunta. Nuovissima. Alla tua collezione. Esatto. Che poi è una cosa strana. Delle volte mi piace anche collezionare i Puppets. Infatti ci sono molti film dove hanno utilizzato dei Puppets, film dell'horror. E mi piace anche collezionare quelli. Ci sono molti film dove c'è un film proprio specifico dove c'è la storia di un ventriloco con il personaggio, che poi è un film horror, che il personaggio è un pupazzo assassino. E mi piace collezionare anche Puppets del mondo cinematografico, televisivo. È una tua passione, quindi oltre il lavoro c'è di più. O Dodò, ad esempio, a casa dell'albero azzurro. Eh sì? Eh sì, mi piace anche collezionarli. Eh allora sarà un fan. Noi abbiamo avuto qui nel nostro programma ospiti e Laura Cavrosino e Andrea Beltramo, che sono dei molti storici dell'albero azzurro. Quindi te li saluteremo, visto che mi pare di capire che tu sia un grandissimo fan. Penso sia partito tutto da lì. Effettivamente Dodò, forse è stato il primo personaggio. Dodò, bim bum bam. Juan, chi solo scorda Juan. Juan, che però Juan mi metteva un po' di inquietudine, devo dire, al bambino. Non so. Ma tutti i bambini mette. Sì. E invece Johnny, il nostro Johnny, invece proprio... Guarda che ti mangio. No, non si mangia. Senti Johnny, tu sei team Pandoro o Panettone a Natale? Pandoro o Panettone? Panettone. Eh, Panettone. Ah, è un tradizionalista, è un tradizionalista. Ti piace molto mangiare. Ti piace molto mangiare? Sì. E invece tu cos'hai chiesto a Bob? Ah no, ce l'hai detto prima che ancora devi fare la letterina. Scusa Gianni, mi ero distratta. Però il nostro Lorenzo Petrucci, così commentiamo insieme a Simone, è nato in mezzo alla gente, regia, per chiedere che Natale sarà, di quale team sono. Quindi se ti va, ascoltiamo insieme quello che ci hanno raccontato. E così poi chiediamo anche a Gianni com'è il tuo Natale. Ascolta anche tu Gianni. Ok. Vediamo. Panettone o Pandoro, chi preferisci? Panettone. No, anzi Pandoro. Pandoro. Che il panettone non mi piacciono le cose che ci stanno dentro. Pandoro. Pandoro, Pandoro perché ormai è una routine in famiglia. Il Pandoro. Perché è semplice, è buono, dentro non hai canditi, è buonissimo. Mi piacciono le entrambe, quindi non ho una preferenza netta, però diciamo il Pandoro forse è meglio. Natale con parenti o con amici? Con i parenti. Capodanno con gli amici. Con i parenti. No, con i parenti. Con parenti tutta la vita. Con parenti. Il tuo Natale dei sogni? Natale dei sogni, ma... A mo' mi devo appunto ricollegare la domanda di prima, a sto punto andiamo con gli amici, tutti da una parte, da qualche parte, però Natale in realtà è una festa che si va con i parenti, quindi non è che c'è un Natale dei sogni. Se mi dici Capodanno dei sogni ti dico altre cose, però Natale dei sogni non mi cambia tanto, alla fine alla vigilia si sta in famiglia e si mangia. Non c'è un Natale dei sogni, per me il Natale con i parenti è quello, il Natale va fatto con i parenti e basta, si pranza, si c'è, la giornata si passa tutto insieme. Il mio Natale dei sogni è stare con la mia famiglia e anche con i cari che magari purtroppo non ci sono più. Con la mia famiglia sempre. Bah, probabilmente New York. D'accordo, che il Natale è da passare con la famiglia. Con la famiglia, sì. E qual è la famiglia? Sono io. No, non sei tu. E poi non passi con me? No, chi se ne frega? No, come? Passalo con me, dai, il Natale. No. E dove lo passeresti se no? Eh, non si può dire. Come non si può dire? Ma sei un po' troppo misterioso. Con una gnocca. Ancora? Ancora con la gnocca. Ma gli gnocchi non si mangiano a Natale, i tortellini al massimo. Sono il giovedì. Esatto. Esatto. Eh, non ripetere. Sì. Ecco qua. E vabbè, Johnny è sempre molto misterioso. Esatto. Non ci vuole dire esattamente. Tu sei d'accordo, Natale? Assolutamente sì. Natale in famiglia, con i parenti. Il classico pranzo di Natale è una cosa molto importante. Lo senti molto? Assolutamente sì. Eh sì, anche perché è uno dei pochi momenti, secondo me, durante l'anno. Sì. Che riusciamo davvero con tutta la famiglia. Poi a maggior ragione sono una famiglia numerosa. Gli zii, i cugini. Insomma, è bello stare tutti insieme. Assolutamente sì, insieme. Forse sono dei giorni in cui veramente ci si riunisce tutti in famiglia. Sì. Dei giorni particolari dove si sta insieme, si può dialogare e finalmente ci si rivede. Perché tante volte la vita ci allontana, quindi invece durante questi giorni si sta tutti insieme. Poi tu a maggior ragione. Sono proprio questi giorni che dobbiamo cercare di stare tutti insieme, visto che la vita... Poi tu hai una vita anche un po' da nomade, mi pare di capire. Esatto, sì. Sei sempre in giro. Un po' qua e là. Quindi per strada. Eh, vivo per strada. No, addirittura. Esatto. No, no, per strada no. Non fa freddo. Ma abbiamo appena sentito che è una stanza bellissima, Johnny. Eh, lo so. Quale delle due? Sei un po' bugiardo tu. Dove, dove. Eh, ma guarda che non ti porto con me al prossimo spettacolo. No, no, io voglio venire. Ecco, allora comportati bene. Allora io annuncio qui che tra qualche giorno riparto in cruciera. Eh sì, in cruciera. Dopo Natale. No, prima di Natale. Ah, prima di Natale. Ecco, ci siamo tra qualche giorno. Tra qualche ora. Tra qualche ora, esattamente. No, mercoledì. Mercoledì, esatto. Riparto per tre giorni, scendo la vigilia e farò, ecco, questi ultimi tre giorni in nave, farò degli show. Ma riesci a tornare? Assolutamente sì. Non è che la... 24 sono a Roma. Sono a Roma. Alle otto sei a tavola. Faccio una mini crociera e sono a Roma. Alle otto sei a tavola. Esatto, sì. E poi ti imbarcherai di nuovo? Di nuovo? Attualmente no. Il periodo invernale no. Per la primavera vedremo, forse. E allora a noi non resta Simone Fanelli che augurarti, innanzitutto, buon Natale. Grazie anche a voi. Buon anno. Anche a voi. E buoni sogni. Buoni sogni. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Anche a te, Gianni. Gianni, mi raccomando però, comportati bene. Capito? In bocca al lupo. Eh. Dove? In bocca al lupo. In bocca al lupo. Ora ti ngangi allora. No. Però mi raccomando salutaci tutti i tuoi fratelli e amici. No, non li saluto. E dai. Non me ne frega niente di nuovo. Esatto. E poi soprattutto sfatiamo questa cosa perché in bocca al lupo in realtà è una cosa abbastanza propizia, porta fortuna. Esatto. Perché il lupo portava nella bocca, no, Romolo e Remo, se non sbaglio. Se invece, quindi Gianni, grazie per la fortuna che ci porti. Grazie a te. E tanti auguri a tutti voi. Grazie. 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 Simone, grazie per essere stato con noi. Grazie, Gianni. Tanti auguri di buon Natale. Grazie. E felice anno nuovo. È vero, anche felice anno nuovo. Assolutamente. Ma torni a trovarci, Gianni. Magari. Però ci devi portare anche il tuo fratellino. No. Ma come? No. Sei proprio dispettoso. Ecco, va bene. Allora, tanti auguri e andiamo. E a presto. Allora ci andiamo. Ciao Gianni, ciao Simone. Grazie a tutti voi. E allora, con le parole di Gianni noi ci vediamo tra pochissimo. A tra poco.